Sono Tommaso Macelloni, insegnante di chitarra elettrica ed acustica. Da oltre dieci anni la musica è anche il mio lavoro, grazie al quale ho avuto la possibilità di operare in vari settori legati a questa professione, dai live allo studio, ma in particolare nell'ambito della didattica musicale moderna. Collaboro con Lizard ormai dal 2008. Dopo essermi diplomato infatti ho avuto l'opportunità di entrare a far parte del corpo docenti della sede centrale di Fiesoli, dove oltre ai corsi di strumento, teoria e armonia mi occupo dei programmi, del coordinamento didattico degli insegnanti di chitarra acustica delle varie sedi Lizard d'Italia e sono inoltre commissario d'esame per i corsi di scuola superiore e collaboro alla produzione didattica dei metodi a marchio Lizard. All'interno dei corsi della Formula College sono responsabile dei laboratori di teoria e solfeggio, amplificazione ed effettistica per chitarra elettrica e tecniche di insegnamento di scuola primaria e superiore.